Ciao amori, eccoci qua per un nuovo video! Siamo per andare Siamo per andare Un po' in corso Garicamento in corso Buffering è terminato, vai! Mi sono buggata Stiamo per andare a Mondello, località Balnearie Che è... In cui crescono barbabietole di zucchero La popolazione, la densità è 10 compitanti al metro quadro E poi? La zona dell'operazione è rischiosa E ricordatevi, non venite come turisti Ma come ospiti! Certo, novi! Ci siamo! Per andare... Aspetta, che stavo dicendo? Mi sto spiegando il video Stiamo andando a tirare i cariandoli sulla gente Stop! Questo è il video Ci vediamo dopo E io oggi ho deciso che sono rissosa Oggi mi devo rissare con tutti Non esiste neanche queste parti Però sì Vai! Sarà sempre su YouTube? Sì! Comunque continuano a vedere i vostri video Vabbè magari esplode il sole Invece la gente che fa il video Tipo gli operatori Moriranno sicuro Cioè non ci ricorderà nessuno È una vita di merda Ci pensate? Ci sono delle parolacce in questo canale Merda non è una parolacce Ah, hai ragione Dai amori Raga, comunque finalmente ho trovato una risposta A tutte le persone che mi dicono Ma non ti vergogni L'ho trovata finalmente E la risposta è Io mi vergognerei di più A vivermi a metà Che non a vivermi completamente È una barcellona Bella Buongiorno Buongiorno Wow No, no, no! Oggi ti immagino un pugno dirà. Adesso sono in valo e lo spino. E' un discorso. E' un discorso. Però se stavate a te so se stavate. C'erano un video di sito al carnavale. Non ci dimenticate. Quale tale? Quattro. E' una casca grande. E' una piccola. Grazie. E' una piccola. Grazie. aaaaah aaaaaah aaaaaah grazie carnevale aaaaaah 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 auguri signora rimasti passivi si siete rimasti magari male si, volevo una reazione niente e deve fare un saluto a Roberto ciao Roby Grazie mille, signor. Sì, sì, sì. Buon carnevale! Giorgia, Giorgia! Sì, sì, sì. Dite ciao, Roby! Ciao, Roby! Però con convinzione. Sì, ciao, Roby! Grandissimo! Cavallo! Cavallo! Buon anno! Buon anno! Già siamo a passare per due anni. E noi buon anno ci chiamiamo. Buon anno! Ora, prima di salutarci, ci tenevo a fare un saluto al mio carissimo amico Roberto. Quindi, se è possibile, fate un saluto per Roberto. Da voi? Sì, sì. Uno, due, tre... Ciao, Roby! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Buon anno, ragazzi! Che anno tu vai? Dai uno! Salute! Un saluto alla regia! Bravo! Che amolo! Vesteggia! Non vesteggi tutto l'anno! Fai così! Un saluto alla regia! Facciamolo! Non ci siamo, Roby! Non ci siamo, chissà! Vabbè! Non parliamo! Dovrebbero avvisare prima! Tre, due, uno! Grazie, grazie! Qual è l'espirito delle carni? Grazie mille! Siamo un'altra! È voluta male! Non è l'espirito del carni? Non lo so! Essere spiritosi! È l'emozione! È l'emozione! È l'emozione! Aspetta, Roby! Ci siamo, Roby! Ci siamo, Roby! Ci siamo, ci siamo, ci siamo! Ci, 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 ci siamo! Mi do a parlare! Mi do a parlare! Mi! Sì! Noi! Siii! Mi do a parlare! Che poteca ciao! C'è tu? Ti può to Ciac! Thomini di llorarlo? Immaginate che non si è delio? Grazie! No, se stanno andando Io? Sì Non lo so Oh, chi c'è il carnevale? Sì Non è il 28 No Vabbè, vanno a colmo Il carnevale Ok Non è il carnevale Non voglio rifaccio i video sui video Ciao ragazzi Quindi se puoi dire ciao Roby Puoi salutare Ciao Roby Ciao Roby? Sì Ciao Roby Grande È possibile Ci siamo Ci siamo Amore No, poi si arriva Non smette di parlare Queste blabababab Sono da mitragliare Casa letto Casa letto Lui voleva fumare Zuma, zuma, sei di lui Sa come perché? So cosa so dare Grazie.